Un fantastico presepe, ce lo propongono le edizioni paoline, un fantastico presepe appunto che, ovvero un libro interattivo che una volta aperto si presenta così, ovvero un libro con la possibilità per tutta la famiglia, ma particolarmente per i bambini, i bambini piccoli in questo caso, di costruire, tra virgolette, a poco a poco un presepe, aprendo queste pagine e insieme ai genitori, ai fratelli, agli amici, costruire a poco a poco questo presepe, ritagliando queste figurine, che sono molto carine, molto simpatiche e aprendo questo libro, questo mio Natale, che narra la storia appunto della nascita di Gesù attraverso varie immagini. è un modo molto carino, molto simpatico, molto piano, molto familiare e molto intimo per presentare il Natale in famiglia, quindi un invito anche ai genitori, soprattutto ai genitori, per iniziare questo percorso di vita cristiana, partendo proprio magari anche così, da un'espressione più semplice, come può essere quella di un libro interattivo come questo, che ci invita a poco a poco a entrare dentro lo spirito del Natale, quindi elementi di compartecipazione per vivere appieno il Natale, quindi un fantastico Natale, un fantastico presepe, chiedo scusa, proposto dall'edizione Paoline.